Aspetta, hai visto questo? E tu hai visto quello? Prendiamo questo! Già, è bellissima! Però non saprei, anche queste qui giù! Insomma, Eric, siamo qui da due ore e ancora non abbiamo scelto il regalo! Lo so, ma tutti i set sono bellissimi e difficile a decidere! Hai detto due ore? Sì! Siamo qui dentro al Lego Store da due ore? Sì! E a che ora chiude? Non lo so! Aspetta, vado a controllare! Ok! Dominique, calma! Devo dirti una cosa, ma non ti spaventare! Che è successo? Siamo rimasti chiusi dentro al Lego Store! Cosa? Come? Ci sarà qualcuno! Chiediamo aiuto! Ehi, aiuto! Ehi, ehi, aiuto! Ehi, aiuto! Dominique, Dominique! Aspetta un attimo, pensaci! Siamo rimasti chiusi dentro al Lego Store! Già, hai ragione! Questo significa che possiamo giocare con Tuzzo! Tuzzo alla nocce! Da quale iniziamo? Ce ne sono tantissimi! Guarda questo che bello! Apro questo! Poi apro questo, sì! E quello? Cos'è? Cosa? Aspetta! Aspetta un attimo! Ah sì! Questo è il nuovo set Lego Video! Con questo puoi fare i video musicali! I video musicali? Sì! Basta scaricare l'app, scansionare il set e... Aspetta, ti faccio vedere! Così ci giochiamo! Prendi il cellulare! Ok, proviamolo subito! Clicca su scansiona e scansiona il bandmate! Il bandmate? Sì! Sono le minifigure di Lego Video! Mentre questi invece... Questi sono i Beat Beats! Se li aggiungi, scansioni degli effetti! Che hai scelto? Ho scelto! Parti lama! Guarda quanti Beat Beats! Sembrano pazzeschi! E adesso scegliamo la musica! Scegliamo... Questa qui! Adesso devi posizionarlo! Dov'è? Dov'è? Mettilo lì! Qui? Qui? Lì? Posizionato! Perfetto! Iniziamo! Ecco la presentazione per la sua esibizione! È presso vita! Prova! Prova gli effetti! Iniziamo! Oh che carino! Guarda! Ci sono degli orsetti! Cosa attiva? Dei balloncini! Guarda! Stanno cadendo! Prova questo effetto! Fantastico! Wow! Guarda come balla! Atmosfera tropicale! Sempre qui dentro! Guarda! Ci sono degli orsetti! Stanno ballando insieme a lui! Balloncini? Balloncini! No vabbè è bellissimo! Facciamone subito un altro! Sì ma prima pubblichiamolo! Aspetta un attimo! Ma abbiamo trovato il regalo! Giusto! Hai ragione! È un'idea fantastica! E voi chi siete? Che cosa fate qui? Siamo insieme! Siamo insieme! C'è stato un errore! Siamo rimasti qui dentro! Ecco come dice lei! Siamo i due insieme! Sì! Venite con me! Lo vediamo! No! No! Lasciami! Lasciami! Siamo i due insieme! Non vi... È tutto ballare!